Ciao amici! Avete mai pensato di inserire nella vostra dieta i semi oleosi? Semi di zucca, canapa e simili sono davvero benefici per la salute e la linea. Danno energia, aumentano il senso di sazietà, assicurano vitamine e minerali utilissimi. Si aggiungono alle verdure sia a pranzo che a cena o si consumano come spuntino, sempre con moderazione visto che 100 grammi contengono più di 400 calorie. E quanti bisogna assumerne al giorno? Diciamo che la quantità consigliata dai nutrizionisti è circa 40 grammi. Vediamo ora insieme i 5 benefici principali dei semi oleosi. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Contrastano la fame. Le fibre dei semi di chia, zucca, girasole e lino vi faranno sentire sazi a lungo. 2. Combattono il desiderio di dolce. Le fibre rallentano l'assimilazione degli zuccheri e migliorano i livelli glicemici. Gli sbalzi di glicemia sono la causa principale di attacchi di fame improvvisi. 3. Mettono di buon umore. I semi oleosi contengono il triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina, l'ormone della felicità e della sazietà. Inoltre sono ricchi di acidi grassi, omega 3, magnesio, utili per l'equilibrio emotivo. 4. Combattono il gonfiore. I semi oleosi sono antinfiammatori, contrastano pesantezza e gonfiore. 5. Favoriscono la regolarità intestinale. Le fibre favoriscono la regolarità intestinale e hanno proprietà prebiotiche, cioè nutrono i batteri buoni dell'intestino. Avete visto, amici, come è facile rimanere in salute con i semi oleosi? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione naturale, la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale. La salute naturale è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio!